perciò Sì, l'anno prossimo vi ho detto di separarli, perché sono tanti i medici di medici. Eh, ma sono tanti i medici di medici. Bene, non tantissimi. No. Abbiamo tre anni. Uno è tutto bello. Si è data la stessa sera? No, si è data. E non so se a sedervi, ma non vedo. Ma non vedo. Oss. No, vedo, vedo. No, vedo, vedo. No, vedo, vedo. No, vedo, vedo, vedo. I due babbi. No, vedo. I due babbi. Ok, 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 ok. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti